Così come reso noto dall'ambasciata italiana Bangkok, la Corte Penale della capitale tailandese ha ordinato l'estradizione di Vito Roberto Palazzolo, arrestato lo scorso 31 marzo in Thailandia quando ricevuto una soffiata stava in fretta e furia per allasciare il paese. Palazzolo, uno dei maggiori banchieri di Cosa Nostra, era considerato dagli inquirenti il principale riciclatore di denaro sporco della mafia. Nel dettaglio il 65enne finanziere nel 2009 era stato condannato per associazione mafiosa a nove anni con sentenza definitiva per i suoi comprovati legami con Totorrina e Bernardo Provenzano. Il verdetto della Corte Penale di Bangkok, le cui motivazioni verranno rese note tra dieci giorni, arriva dopo quasi nove mesi di battaglie legali e diplomatiche volte ad ottenere il trasferimento in Italia del boss che intanto, nella sua lunga latitanza, aveva acquisito la cittadinanza sudafricana, paese nel quale, secondo le accurate analisi degli investigatori, aveva creato un imponente impero finanziario.